Perché qualche mese fa, per passare dall'acqua a un altro settore, alla carta, un problema che aveva Lucart in Toscana era il fatto di dover spostare, perché il loro principale stabilimento era Saturo, spostare della carta a un magazzino che stava a 35 km di distanza. Ogni volta che sposti la carta mi hanno spiegato comunque hai perso, perché la carta è un materiale che pesa molto, ingombra molto ed è a basso valore aggiunto, quindi tu devi fare camionate di carta e appena la sposti il costo di trasporto ti ammazza e ti uccide. Allora se sono posti il problema di che cosa fare, perché avevano stimato che questo tipo di spostamento a 35 km di distanza in realtà avrebbe generato 700.000 euro all'anno di costi aggiuntivi. Allora il capo della supply chain ha attivato un percorso di digitalizzazione, tale per cui tutto il processo in questo momento viene gestito quasi in assenza di personale. La cooperativa, ahimè, che gestiva la parte di movimentazione interna, non è stata dismessa dal perimetro dell'azienda, una trentina di persone, quelle invece che lavoravano per Lucart all'interno sono state riacquisite ad altri processi. Il fatto sta che voi oggi avete la carta Lucart che esce, viene caricata in maniera automatica sui camion, la pesatura viene in maniera automatica sulla base di codici matrix, data matrix, mi ha parlato, io dicevo RFID, mi hanno bacchettato, spero che voi ne sappiate più, anzi no, sicuramente ne sapete più di me, comunque data matrix e addirittura il guidatore del camion che deve portare poi questa merce in un altro sito riceve sul proprio smartphone la bolla di trasporto, quindi non c'è neanche più neanche un documento che viaggia. La carta viene caricata sul camion, il sistema genera una bolla di trasporto, quantità e tipologia di carta e sullo smartphone dell'autista arriva tutto quello che serve per poter portare la carta. Nel giro di due anni hanno già, diciamo, ammortizzato l'investimento di, mi pare, un paio di milioni che hanno fatto. Quindi si è ammortizzato il costo aggiuntivo che avevano, ma non solo, perché poi mi spiegava il capo della supply chain che in realtà quello che è successo è che hanno azzerato completamente i difetti di spedizione, i resi, insomma, tutto quello che era l'errore è stato praticamente azzerato. E questo sta accadendo un po' in tutti i settori, ci sono alcuni più fortunati che sono per più fortunati, anche più lungimiranti, ICAM, Cioccolato, nel Lecchese, ha deciso di costruire da zero già qualche anno fa una fabbrica investendo 60 milioni interamente digitale. I processi sono completamente digitali e per cambiare ricetta, 200 ricette di cioccolato diverso fanno, io pensavo il cioccolato è cioccolato, in realtà no, non è così, per cambiare ricetta in realtà mandano un programma, le macchine si riattrezzano e tutto questo sistema permette a loro di evitare, di fermare, diciamo, il processo per mezza giornata, per qualche ora, prima di passare ad una produzione successiva. E questo accade un po' per tutti i settori, quindi la flessibilità che ti, veniva citata prima, la flessibilità dei software, ecco, la flessibilità e la gestione dei lotti piccoli è diventato uno dei parametri su cui, e dei parametri chiavi che le aziende vanno a ricercare, il mercato non chiede più migliaia di pezzi, decine di migliaia di pezzi, chiede magari pezzi piccoli, lotti piccoli, la gestione del lotto 1, per esempio, non sono ancora uscite due Maserati Levante, uno uguale all'altra, perché non ci sono due, hanno non so quanti milioni di variabili, però non ce ne sono due uguali. Ecco, la gestione efficiente dell'otto minimo è una delle soluzioni che viene fornita dalla digitalizzazione. E le aziende vanno a cercare queste soluzioni anche per poter gestire queste piccole produzioni. E lo fanno anche con degli escamotage particolari, perché poi la digitalizzazione non va a cambiare soltanto la logistica, non va a cambiare soltanto la qualità, interviene anche nei processi interni. Comer, azienda di Reggio Emilia, che produce pezzi di trasmissione per settore agricolo, ha tra le proprie fasi di lavorazione la verniciatura dei prodotti. La verniciatura dei prodotti però prevede che il forno venga acceso, diciamo, mezz'ora prima della sua possibilità di utilizzo, nel senso che deve scaldarsi per mezz'ora prima di lavorare. Oggi il forno viene gestito da un tecnico che ha un iPad, e vabbè i dati sono tutti remotati, e questo più o meno ormai è diventato uno standard, quello che è meno standard è che il tecnico si porta a casa l'iPad alla sera, e da casa fa partire il forno, abita all'inzona, fa partire il forno mezz'ora prima, di modo che quando la fabbrica parte il forno è già pronto per essere operativo. Altra modifica sempre in questa azienda, perché usa la digitalizzazione su più livelli, e poi quando poi l'imprenditore prende gusto in queste cose, poi magari fa anche attività diverse. Per esempio oggi loro hanno un'app che è stata scaricata da 1200 dipendenti della sede di Reggiolo, e attraverso questa app l'assemblatore, l'operaio, che è lungo la linea di assemblaggio, non deve andare dall'ufficio del personale o comunque spostarsi, fare strada per prendere ferie o permessi, sul suo smartphone ha questa app, digita tre codici e prende mezza giornata di ferie. E l'hanno scaricata praticamente tutti, questa applicazione sta funzionando. Quindi quello che sta accadendo è che il Made in Italy sta trovando una sua strada, perché tutto questo, e poi diciamo alla fine uno dice, vabbè la digitalizzazione, solo i grandi possono investire, è un problema, noi abbiamo tante PMI, in realtà quello che noi stiamo vedendo è che non è proprio così, dipende moltissimo dalla volontà dell'imprenditore, e comunque le soglie di accesso a questi investimenti non sono altissime. Poi naturalmente uno può fare tutto, come ha fatto Brembo, Brembo ha investito 100 milioni di euro in un piano quinquennale, e Brembo oggi, dallo stabilimento di Curno, è in grado di sapere la fusione in Michigan della Giza, a che temperatura viene fatta. Però, insomma, Brembo è, però in realtà ci sono anche altre aziende di dimensioni molto più ridotte che hanno fatto percorsi altrettanto interessanti. E quello che sta accadendo è che con questa modalità, con la digitalizzazione, in realtà uno dei vantaggi forti del Made in Italy è che la nostra possibilità di dare prodotti customizzati, di dare prodotti tutti diversi, di fare nicchie, di lavorare sulle nicchie specifiche, in realtà ci dà dei vantaggi. Quindi in realtà non è proprio vero che questo va a standardizzare tutto. Ci va a consentire, va a consentire alle aziende di gestire anche lotti che sono di dimensioni ridotte. E come dicevo, appunto, la Maserati Levante non ne ha fatte ancora due, una uguale all'altra. Poi naturalmente succede che cambiano le cose anche a valle, cambiano le cose anche a valle nei prodotti. Non mi ricordo più chi prima mi parlava di proprio cliente Candy. Ecco Candy, prima che vendesse ai cinesi, ero in una tavola rotonda con Fomagalli, che era presidente di allora, e mi faceva vedere sul suo iPad 100.000, mi diceva, guardi, in questo momento 100.000 persone fanno il ciclo lana, perché lui ha la più grande rete di lavatrici connesso di tutta Europa, ed è il motivo per cui i cinesi hanno comprato Candy, tra l'altro. Poi lui stesso mi diceva, io non so ancora bene cosa faccio con questi dati, però la grande certezza è che io li ho. E quindi se Vernel, Dash, Dixan, qualcuno me li chiede, io li posso vendere e valorizzare. E se voi andate oggi a visitare, per esempio, anche settori che sono apparentemente molto poco tecnologici, se noi pensiamo, almeno io avevo questa idea, poi magari era un mio pregiudizio, ma il settore del rifornimento delle macchine del caffè, insomma, vedete in giro le persone che vanno a rifornire i distributori automatici, non è proprio il primo settore. Quando pensate alla tecnologia high tech, non è esattamente il primo settore che vi viene in mente, almeno a me no. Ecco, se andate a visitare la centrale operativa di Bergamo, di IWS, che è il primo operatore italiano di questo settore, voi avete lì una persona che chiamano esattamente così, cioè il regista. Questo è il regista ed è seduto in una sala dove ha davanti a sé 8-10 monitor. Da una parte ci sono, è come una piantina, una grande piantina dell'Italia. Loro hanno, diciamo, lo standard è il rifornimento, quindi il rifornimento, hanno degli algoritmi per capire quando andare a rifornire le macchine. Non è casuale, la macchina comunica, parla e poi cambia a seconda del tempo, consumi più acqua d'estate, consumi più bevande calde d'inverno e viceversa. E questa, diciamo, è la gestione ordinaria. Poi c'è la gestione del problema. Quando la macchina si rompe, segnala un errore, compare una luce rossa attorno a Brescia, per esempio, e il regista non fa altro che segnalare, io ho visto un po' di palmari che sono poi nella stanza demo e sono simili a quelli che usano in IWS, ogni operatore ha uno di questi palmari e il regista accoppia il problema, la macchina rotta, alla soluzione. Il tecnico più vicino lo prende, lo accoppia e nel giro di cinque minuti il tecnico risponde sul suo palmari e dice sì, vado io e vado a prendere questa commessa. E loro poi da lì partono con tutta una serie di misurazioni, di efficienza e di qualità, ma sono riusciti a ridurre in questo modo di moltissimo la loro capacità di intervenire nel settore. Così come è cambiato in maniera radicale l'universo degli antifurti. Se voi andate a visitare a Bustorsizio la sede di Vodafone Automotive, Cobra, poi ha comprato Vodafone Automotive, voi trovate lì delle persone che rispondono al telefono, chiamano i clienti, hanno degli schermi in cui la scatola nera che c'è dentro la macchina comunica quando c'è uno stop improvviso, c'è una decelerazione, si attiva un segnale d'allarme, parte un grafico e ti fa vedere che la macchina andava a 60 all'ora e che nel giro di un secondo è andata a zero. Poi se riparte dopo 10 secondi vuol dire che ha frenato, il semaforo era rosso o qualcosa del genere. Altrimenti telefoni. E io ho assistito in diretta al tecnico Vodafone, a una telefonata con cui loro pilotavano i carabinieri e hanno poi catturato due ladri perché il cliente aveva telefonato, la macchina era geolocalizzata e loro dalla centrale, da Bustorsizio, in Sicilia, hanno pilotato la pattuglia dei carabinieri ad arrestare due persone che avevano appena preso questa macchina. Hanno in questo momento 500.000 vetture connesse. Quindi a valle sta cambiando anche qui il mondo e sta cambiando in tutti i settori. Da questi, che sono i più banali, alle viti dei Boeing. Perché c'è un produttore, tra l'altro poco distante da qui, da Bologna, si chiama Poggi Polini, fanno vite in titanio. Ecco, loro stanno inserendo dei sensori all'interno di queste viti che diano dei segnali di criticità prima che queste viti possano dare un segnale di usura. Quindi sta cambiando il mondo. Sta cambiando il mondo, tra l'altro, anche in settori che non sono, diciamo, tipicamente tecnologici. Sempre qui a Bologna c'è una cooperativa che sta facendo, che fa dei lavori, scavi, sistema i tubi, fanno manutenzione per grandi municipalizzate. Hanno fatto una partnership con una start-up modenese che si chiama Glass App e loro, quando fanno manutenzione, oggi pilotano i loro tecnici attraverso questi occhiali. Quindi un tecnico in centrale dice, sì, vai lì, scava un po' più a sinistra, un po' più a destra, guarda la mappa e pilotano esattamente l'intervento. Il tecnico sul territorio ha questi Glass App, che sono questi occhiali, tipo Google Glass, ed è connesso quindi alla centrale e questo ha un duplice vantaggio, offre un duplice vantaggio. Da un lato non hai errori, o comunque riesci a dialogare magari da remoto, anche con più squadre contemporaneamente, ma l'altro aspetto è che tu puoi consegnare poi alla fine al cliente un file, anche un video, o comunque un file che ti mette a riparo da ogni tipo di contestazione. Il lavoro l'hai fatto? Sì, eccolo qua. E questo è il risultato della digitalizzazione in un settore come quello della manutenzione stradale, che appunto non è tipicamente quello che uno identifica come un settore high tech. Ecco, io prima di arrivare alla tavola rotonda volevo chiudere su uno dei temi che poi tratteremo più avanti, che è quello del personale, che è probabilmente il tema, il nodo cruciale di questi anni, perché se dal punto di vista delle imprese il tema è investo o non investo, sfrutto gli incentivi oppure no, poi una volta che tu hai fatto un investimento devi capire se hai le persone per gestirlo. Allora, lo scorso anno, dalla laurea magistrale in informatica, ingegneria informatica del Politecnico di Milano, sono uscite 258 persone. E il responsabile del corso mi diceva che nel corso dell'anno sono arrivate 4700 offerte di lavoro da parte delle aziende. Quindi di fatto una ogni 20, più o meno, largo circa. E questo vi dà un po' il senso della difficoltà estrema. Ero l'altro giorno, perché scrivevo un articolo su questo tema, al Sole 24 ore c'era l'assemblea di Federacciai, ho visto due imprenditori che chiacchieravano tra di loro, mi sono intromesso e ho detto ma non è che anche voi avete problemi. E uno mi ha detto che il responsabile ICT andava in pensione da lì a sei mesi e lui era da un anno che aveva affidato il mandato a un cacciatore di teste e non si trovava nessuno. L'altro mi diceva che il suo responsabile ICT aveva ricevuto due o tre offerte di lavoro nel giro di un anno e lui era stato costretto, secondo me è un fatto positivo, ad agli due o tre aumenti di stipendio. E lui si lamentava, diceva anche l'auto vuole. E vabbè, insomma, comunque diciamo, queste professionalità oggi vengono pagate di più. E gli ha dato anche l'auto. Quindi c'è una fame di tecnici, c'è una fame di giovani laureati in questi settori, incredibile, perché non è soltanto l'accelerazione dei settori high tech tradizionali. Oggi vengono assunti questi tecnici in tutti i settori. Beretta, Armin, sta cercando dei matematici per fare degli algoritmi per migliorare la produzione. Armani, anche Armani ha assunto dei matematici per fare delle analisi sui prezzi. SACMI, cooperativa qui dei macchinari vicino a Bologna, a Imola, ha appena assunto un astrofisico. Io chiedevo al presidente, ma perché è un astrofisico? E lui mi diceva, guarda che la matematica la sanno. Oggi il tema dei big data è un tema che è diventato trasversale su tutti i settori della meccanica, l'elettronica lo è da sempre, e poi si aggiungono questi settori ad altri invece più storici, come le assicurazioni, le grandi banche, le società di telecomunicazione, che da sempre sono abituate a macinare quantità enormi di dati. Però il tema vero è che si stanno effettivamente aggiungendo una serie di settori che prima non c'erano. Per fortuna le università si muovono e quello che noi registriamo è che da Milano a Torino a Bari stanno aumentando l'offerta di laurea, laurea in cyber security, laurea in industria 4.0. In generale la Bocconi da quest'anno ha reso obbligatorio per tutti i corsi di laurea un esame per tutti che sia un esame di informatica. Quindi nessun laureato della Bocconi può uscire dalla Bocconi senza sapere ma perché è successo come vedete parecchi anni fa, io non ne capisco nulla. Ma oggi se tutti laurea in Bocconi devi sapere l'ABC, insomma dell'informatica. E questo sta evidentemente a dire che insomma il mondo è cambiato rapidamente. Questo più o meno era quello che avevo da dirmi, poi apriremo magari lo spazio più tardi alle domande attraverso l'app che avete scaricato.